Al vostro cortese ascolto, il re Leone, generale 2016. Allora, ma voi dico, ma ho, a questo io sentito buono, e per rimanere a me, ho detto, ma pure vinti di al anno, no, vinto, un generale, gli servono trenta minuti, e voleva a pieza, ma dita per il capo, voleva a pieza un generale, fa le tre ma, ce ne la, fa le tre ma, ho, ho, ho! Gira, 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 forino, gira, forino! La prima forza ciclistica, la nuova gioventù! Gira, verde, rosso!